Hello my friends, I'm with Kadeo She's Italian First time, the first time? Si Ok, so first time, let's watch an ASMR treatment Qualche dolore particolare? Scogliosi da parte sopra Mmm, aveva scogliosi in case So let's check together This side, ok Ti puoi piegare in avanti Brava, testa giù Ok Un pochino più giù, scendi, scendi, scendi Ok, yes Ha un pochino scogliosi Ma ti dà dolore questa condizione? Si Dove di solito? Qui alla parte sopra Ok, so she has pain more on the upper back So mainly trapezios area and cervical Quindi abbiamo più dolore che problematiche avere proprio posturale Però interessante da sapere Piccolo test in più Preghiamoci in avanti Brava, dalla testa, scendi giù 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 Perfetto, torna su Benissimo, puoi tornare su Perfetto Ok I will remember like landmark Yes, the leg of the dragon Very easy It's right there The wing Abbiamo proprio oggi, è facile, avrai tutti i vari punti facili da ricordare Bene Più rilassata che puoi Non fa male nulla, tra pochi secondi lo vedrai insomma Ferma così, abbandona Brava Ok, ci siamo Tutto bene? Benissimo Ok, sei appena arrivata nel club quindi ormai fa parte del team Piano piano E adesso con calma facciamo tutto il resto Brava Brava Con calma Benissimo Sta andando molto bene Più rilassata che puoi Brava, brava, brava Perfetto Ok E adesso una cosina un po' più complicata Più rilassata che puoi E lascia mi cadere Brava Abbandonatissima Più rilassata che puoi Perfetto Olè Ci siamo Brava Tutto bene? Sì Questa era un po' diversa dalle altre Te lo dico dopo logicamente Era un approccio sull'occipite Da un approccio sulle tecniche Oltre Senti, è un rumore diverso da quello che hai sentito finora Quasi come una cosa che va incastro è quello dell'ocidale che ha un funzionamento diverso, tanto per curiosità pancia in su che stiamo andando benissimo allora, ruota da questa parte brava, stendi le gambe benissimo tu rilassati non mi aiutare, levo tutto per me bene, relax, ok brava lascati cadere più abbandonata che puoi peso morto con le gambe brava, abbandonale proprio fuori, falle cadere dal lettino tutte e due bravissima, draw both legs e ci siamo tutto bene? no ok bene lascati cadere abbandona di nuovo le gambe entrambe, lascia le cadere più giù tutte e due bravissima abbandona, 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 abbandona ok ci siamo perfetto lascia le gambe giù benissimo stendile ok put down your legs ok yes ci sei? ancora una vai bravissima prova a rilassare tutto rilassa, rilassa ok benissimo brava stendi le gambe yes prendi le gambe and that's fine comoda comoda benissimo lascia fare tutto a me brava lascia cadere le gambe a peso morto più rilassata che puoi abbandona le gambe brava ci siamo ah vai piccola pausa ok si facciamo let's release the muscle facciamo recuperare un attimo il muscolo e adesso ripartiamo ok brava non mi aiutare eh sta rilassata bene 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 lascia cadere le gambe anche l'altra abbandonale abbandona le gambe brava ci siamo ottimo ok let's work once again on the muscle let's work once again on the muscle brava ci sei? ancora una ancora una brava più rilassata che puoi bravissima ok a little lift ok perfect tutto bene? ci sei? si questa è una pochino più forte solleva la testa lift your hand rub it perfetto lascia cadere adesso rilassa le gambe giù e qui ti devi rilassare il più possibile che è una delle tecniche più importanti va bene? abbandonatissima brava lascia fare a me perfetto ok ci sei? riprenditi eh riprendiamoci un attimino molto bene com'è andata? benissimo forte riprendi un secondino perché si vede che che l'hai accusata un attimo pausa pausa va bene sì sto dando un po' di tempo per rilassare dopo questo davvero difficile inoltre inoltre avremo il hip ci sei? ci sei? sì questa spaventa un po' sì ci sei? sì è 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 adesso adesso rimani brava sui bonti bravissima così sì sì proprio vieni sui spalle ok perfetto e adesso con molta calma brava rimani comoda così però lascia cadere la testa brava quindi mantieni le spalle alte brava rilassa invece la testa che deve cadere ok ok più rilassata brava ok con molta calma altro lato brava lascia cadere la testa abbandonatissima ok perfetto ci sei? tutto bene? benissimo benissimo gira la testa di qua benissimo più rilassata che puoi ok bene ok guarda la testa di qua giù qui e ora sì puoi puoi riposarti giù con la testa brava sì sì perfetto rilassata più rilassata ok ok non ti spaventare eh buono l'anca l'anca era un po' rilassata ok ok great wow ci sei? molto bene benissimo ok benissimo ferma così adesso scendi più giù vieni giù 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 vieni 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 lascia questa gamma fuori vieni 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 ancora di più brava così va bene let's bend this one yeah that's fine ok relax brava bene vieni un pochino qua al bordo brava lascia cadere questa gamba abbandonatissima brava con calma ti sopporta? meno eh un pochino un pochino ok ok 3 2 1 and 2 perfect let's bend good legs yes that's fine lascia lascia rilassata e andiamo ok tira al fianco si si ok stacca 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 slowly ok just a little more 1 2 3 4 and 5 ok perfetto brava ecco questo non c'è che ti dico vai va bene brava allora dino ancora un po' più sull'orbo brava lascia rilassatissima la gamba ok alla grande tecnica un po' più complessa dovevi rispondere malissimo che tecnica allora I asked how it's going? ah so well ok so now you gain very good technique allora comodo comodo rilassata brava fai fare a me 1 2 e 3 1 2 e 3 1 2 e 3 bene un pochino di più da questo lato brava adesso apriamo un pochino la bocca brava rilassata comodo comodo rilassa 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 ancora un pochino di più brava ci sei? stessa cosa dall'altro lato brava più rilassata che puoi brava 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 ancora un po' di più brava ancora un po' di più perché poi complessa 1 1 2 e 3 brava moltissimo c'è un blocco qui vediamo se ci arriviamo allora da questo lato rilassatissima bravo lascia la bocca abbandonatissima brava falla scivolare brava falla scivolare come è andata? un pochino forte lo puoi dire eh? ebbè si intuisce brava lei sta cercando di mostrare che tutto è bene ma non è bene ok ora rilassa un pochino brava lascia cadere completamente la mandibola falla scivolare falla scivolare falla scivolare falla scivolare oh adesso ci siamo eh? si brava ci siamo lascia cadere un pochino il corpo da questo lato abbandonati brava più rilassata che puoi bravissima ok stessa cosa dall'altro lato brava lascia tutto abbandonato rilassatissima rilassatissima brava oh perfetto allora mano rilassata lascia lascia tutto a me perfetto ok tieni qua dietro la testa bravissima rilassa perché puoi lascia la mano rilassata ora più rilassata oh perfetto tutto bene brava brava oh perfetto mani entrambe dietro così eh? no no dietro la testa brava ok più o meno c'eravamo giustamente ci bene ferma così ok rilassati eh brava adesso ok tutto bene sì un po' forte eh? sì bene brava 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 sì ci siamo ti dai una piccola scranchitina rilassati è stato bello forte impegnativo sì penso sia bella anche in casa sì un pochino un pochino come li senti? sensazioni? no leggera tutto leggero? leggera sì ok va bene allora a questo punto grazie grazie noi facciamo un bel saluto ai nostri amici thanks for watching ciao ciao